di mano poi due del Padova, del Mantua, scusate, con Barilla e con, che dire, quindi pareggio di Falserano al ventiquattresimo minuto. Allora, non ci annoiamo Andrea perché quattro gol dopo ventiquattro minuti. No, mi fa piacere rivedere un Falserano così. Il vero sono due di pesce oggi, la torna è una di qua. Che a fare la Falserano gliel'ha andata loro. E' una grande verità, però il fine giustifica i mezzi. Ma va bene tutto, per carità. Quando sei un po' così, che non c'è una grande dinamicità, va bene anche un friso di Bianchimano per andare in vantaggio e soprattutto Falserano che dopo l'1-2 del Mantua potrà essere una botta. I pezzoni del Carugia hanno guardato gli attaccanti del Mantua ma che sentono...